lo swing 2 è un kayak a pozzetti per due persone non rivestito o single skin è lungo 402 cm e largo 86 pesa 14,5 kg nella versione standard e 12,5 kg nella versione nitrion light è costituito in nitrion un materiale molto resistente e bebitato da gumotex che consiste in diversi strati di gomma sintetica naturale e poliestere è più ecologico e sicuro del pvc che ricordiamo essere cancerogeno e offre una buona resistenza all'abrasione alle fornature e raggi uv è facile da riparare la gumotex fornisce anche un kit di riparazione comprendente alcune toppe in nitrion e la colla specifica il ponte superiore del kayak è in everalon un tipo di poliestere con una gommatura nella parte inferiore la struttura del kayak è irrigidita da tre sostegni in alluminio che allo stesso tempo provvedono a tenere sollevato il ponte di coperta i sostegni si inseriscono a kayak sgonfio ed è impossibile sbagliare su ogni sostegno sono incisi un numero e una lettera basta farli corrispondere a quelli stampigliati sulle toppe all'interno del kayak i sostegni sono numerati 3 4 e 5 dalla prua alla poppa e riportano le lettere l e r sinistra e destra in inglese left e right l'occupante anteriore ha a disposizione anche un piccolo puntapiedi purtroppo poco efficace noi preferiamo lasciarlo a casa i sedili in dotazione non sono gonfiabili sono costituiti da un'asta di schiuma purtroppo molto dura rendendoli abbastanza scomodi per le lunghe pagaiate l'unico aspetto positivo di questi sedili è che occupano poco posto nella sacca di trasporto e sono praticamente indistruttibili da notare che anche se usate tutti i punti di ancoraggio cioè sostegno metallico con i due cinghi laterali e la topo sul fondo il sedile tende ugualmente a muoversi noi abbiamo profitto di sostituirli con questi rigonfiabili dell'eatwit x100 della decathlon molto più comodi il kayak è dotato di tre camere d'aria tutte da gonfiare alla pressione massima di 3 psi o 0,2 bar due tubolari e un fondo di tipo ibeam cioè costituito tante camere d'aria appaiate il fondo è anche dotato di una valvola di sovrappressione che si apre automaticamente quando la pressione interna troppo alta per salvaguardare l'interità del fondo stesso le valvole presenti sono tutte di tipo hr o alky roberts dotate però di un passo diverso rispetto a quelle delle valvole decathlon e di altre marche la gumotex fornisce perciò un apposito adattatore da utilizzare con le varie pompe in commercio le scanalature create dalle camere d'aria del fondo aibeam permettono di indirizzare meglio i flussi d'acqua e di fornire una certa direzionalità anche in assenza di pinna la pinna è comunque presente nella parte posteriore del kayak ed è del tipo che si può installare solo a kayak sgonfio il kayak ha una capacità massima di carico di 220 kg e lo spazio per stivare oggetti non manca troviamo due gavoni uno all'anteriore e uno a posteriore chiusi da due robuste cerniere purtroppo tali cerniere non sono a prova d'acqua e questo è un vero peccato nel gavone di prua possiamo stivare una borsa stagna fino a circa 30 litri in cosa di poppa tocca usare una da 25 o meglio quella da 20 se volete sfruttare meglio lo spazio consiglio le stacche stagne di forma conica o triangolare che però potrebbero essere molto costose come quella della grabner sopra i gavoni ci sono i bungee strap o i ragni ognuno con 4 d ring in plastica per fissare ulteriore carico completano la dotazione due maniglie una a prua e una poppa molto comode e resistenti aspetti positivi del kayak materiale resistente ed ecologico kayak leggero abbastanza veloce in acqua ottima direzionalità tranne che con il vento forte possibilità di montare le gonne para spruzzi ottimo per acqua mossa ondate e cattiva stagione in generale aspetti negativi cerniere con una prova d'acqua sedili scomodi mancano di ring all'interno del cockpit per fissare oggetti che potrebbero servire in navigazione il punto di coperta tende ad usurarsi in corrispondenza di tre archi metallici noi abbiamo messo nel nastro adesivo metallico sia all'interno che all'esterno la sacca per il trasporto è anche una sacca stagna è molto leggera ma purtroppo è facile da graffiare o da danneggiare non è inclusa la pompa dove usarlo non l'abbiamo usato su fiumi tranquilli su più agitati al mare al lago calmo e con forte vento si comporta mediamente bene ovunque ma come già detto soffre vento forte come tutti i cai aggonfiabili del resto essendo un cai a capozzetti è indicato anche per la brutta stagione o per acque bianche fino al secondo grado utilizzando dei tubi flessibili di dotazione è possibile equipaggiare le gonne para spruzzi per rimanere asciutto anche in mezzo alle ondate abbiamo tutto tutto se avete domande lasciateceli qui sotto nei commenti vi risponderemo c'è anche la versione lunga di questo video nel link in descrizione se vi è stato utile ci sarebbe piacere se vi iscrivereste al canale per aiutarci a crescere e a portarvi nuovi contenuti alla prossima grazie a tutti